Test di registrazione video con Alcatel OneTouch Idol Mini abbiamo iniziato la ripresa da un soggetto in primo piano per vedere il dispositivo come si comporta al cambio di fuoco il video viene registrato alla risoluzione massima quindi in HD 1280x720 andiamo a vedere come si comporta con un control luce andiamo a effettuare anche un test di zoom zoom ovviamente digitale torniamo a luci più naturali un test di fluidità e ora ci fermiamo